ciao a tutti cari amici buonasera e ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento delle ore 22 con la canalizzazione del pensiero allora questa sera vado a fare la carina la canalizzazione con gli oracoli degli specchi e come potete vedere ho preparato questi due simbolini allora la variante 1 e la variante 2 cercate come al solito di scegliere a distinto io intanto faccio un piccolo preambolo per coloro che magari la prima volta che approdono in questo tipo di video e magari anche nel proprio nel mio canale allora questi sono video interattivi sono costituiti da tante energie quindi siete tantissimi sono tante le vostre situazioni quindi naturalmente vanno ascoltati con la mente molto molto aperta possono risuonare completamente in parte o può esserci una piccola frase una piccola parola che in qualche modo vi deve illuminare sulla vostra situazione vi ricordo anche che sono validi dal momento in cui vengono visti e vanno bene per tutti i tipi di coppie quindi donne che guardano per uomini uomini che guardano per donne e coppie arcobaleno allora io faccio finta che abbiate già scelto vado con la variante 1 che metto qui naturalmente se non vi è bastato il tempo potete stoppare il video e fare la vostra scelta con tutta calma e serenità allora andiamo a prendere i nostri oracoli degli specchi e andiamo a vedere che cosa ci raccontano le carte che cosa ci raccontano questa sera gli oracoli ok non si esco a farci restare tutte ok allora di cosa ci parlano qui beh c'è qualcosa sicuramente che è in ritardo all'interno di questo rapporto quindi probabilmente forse vi aspettavate qualcosa o questa persona si aspettava qualcosa da questa relazione fatto sta che abbiamo siamo al limite qui se non si agisce se non si procede con un'evoluzione un'azione o un semplice gesto si potrebbe rischiare di perdere il treno quindi direi che c'è anche una sorta di preoccupazione perché si teme che tutto quello per cui si è lavorato in questo momento all'interno del rapporto in qualche modo possa andare perduto potrebbero esserci effettivamente dei ritardi dovuti a qualche problema di lavoro o altri impegni che naturalmente saranno diversi per ognuno di voi o per la persona nel vostro cuore nel vostro cuore scusate comunque si tratta proprio di un ritardo un rallentamento e appunto anche una sorta di preoccupazione perché si teme di non arrivare in tempo in questa situazione quindi questo è un po il contesto generale andiamo un po vedere cosa sente cosa pensa che cosa prova questa persona allora sicuramente abbiamo a che fari con un uomo che ha intenzione di offrirvi qualcosa di importante un dono può essere qualcosa di materiale proprio un regalo vero e proprio ma per alcuni potrebbe trattarsi di una presenza di aiutarvi a fare qualcosa quindi donarvi la sua il suo amore diciamola anche proprio la il tempo che questa persona ha a disposizione vedo che c'è bisogno di un cambiamento all'interno del rapporto almeno questa persona lo desidera ardentemente e qui abbiamo anche la carta dell'argento che è una delle carte più belle di questo mazzo e mi parla di una situazione comunque che per questa persona risulta essere prolifera quindi voi siete importanti potete avete delle grosse opportunità secondo questa persona vede un rapporto che può andare verso una direzione meravigliosa che può fruttare proprio in tutti i sensi sia a livello economico sia a livello di felicità di gioia e qua c'è un anche avere una sorta di sensibilità come se si prevedesse che questa situazione possa andare verso una direzione veramente positiva abbiamo per alcuni di voi qui un pensiero forse proprio nella cartomanzia magari voi fate le carte o le fa questa persona fatto sta che c'è una sorta di sensibilità di sensitività nei confronti di questa situazione potreste essere appunto voi che magari siete un po streghette quindi questa persona lo sa e pensa proprio a questo un'altra cosa che emerge qui se solamente se questa persona sapete che è impegnata qui potrebbe esserci appunto un cambiamento all'interno del rapporto ufficiale attenzione perché se lavorate con questa persona se avete solo a che fare dal punto di vista lavorativo e finanziario è un uomo una donna che stanno in vostra compagnia o comunque vi frequentano per avere un vantaggio dal punto di vista economico ok ma in realtà questa persona magari è già impegnata e già felice all'interno del proprio rapporto allora andiamo un po a vedere però con gli oracoli del vorrei dirti che perché qui naturalmente come sempre queste stese sono generali possono contenere tante situazioni tante storie ok quindi andiamo a vedere che cosa emerge ulteriormente allora ho bisogno di parlare con te dice mi dispiace mi hai delusa o deluso so se tornassi indietro cambierei tutto e qui abbiamo anche vorrei non averti detto quelle cose ti ho mentito allora qui mi viene da dire che probabilmente è una persona che un po via illuso verso determinate situazioni forse non è stato sincero né nelle intenzioni né tantomeno probabilmente nel nella questione del rapporto ufficiale perché per alcuni di voi qui se sapete ripeto solo se sapete che questa persona impegnata potrebbe non essere stato del tutto sincero se invece siete single e questa persona la vorreste la frequentate la vorreste come compagno compagna ufficiale e sappiate che se vi ha detto che non vuole ed è per questo che c'è il ritardo non vuole o non può sappiate che non è vero c'è sta mentendo questa persona bisogna anche di parlarvi di questa situazione dispiaciuto sente di avervi deluso ma sente anche che di essere deluso dalla vostra reazione perché qua secondo me voi di fronte a questo ritardo non è che abbiate proprio reagito benissimo ok dice se tornassi indietro cambierei tutto vorrei non averti detto quelle cose allora qui se questa persona vi ha mentito è deluso è pentito amaramente di averlo fatto e vorrebbe appunto non avervi raccontato queste cose quindi queste frottole eventualmente se invece questa persona non è impegnata quindi siete single entrambi e vi state frequentando qui c'è un ritardo ma non è stato sincero in questo ritardo se invece impegnata questa persona potrebbe avervi fatto credere che la situazione in casa non era poi così non era messa bene e invece qui c'è comunque la carta della gioia della felicità quindi forse è dispiaciuto proprio per non essere stato sincero e dice se tornassi indietro cambierei tutto vorrei non averti detto quelle cose secondo me qui potrebbe avere proprio mentito al fine di attirare la vostra attenzione allora andiamo a vedere dei messaggi motivazionali per voi io vi ricordo naturalmente che se volete contattare per dei consulti privati lo potete fare via whatsapp al 3 7 1 6 3 6 0 2 2 8 io vi mando tutte le varie modalità per un consulto e dopo di che potete decidere se effettivamente farlo o meno allora seguo la mia saggezza interiore sono in pace con il mio essere mi amo e confido di prendere decisioni giuste confido che la vita si prenda cura di me oggi è un nuovo giorno vivrò moltissime esperienze nuove e meravigliose sono amato sono al sicuro e così è allora qui sicuramente qualcuno di voi fa fatica a prendere delle decisioni oppure non sapete come agire in questa situazione qua dice di prendere decisioni giuste quindi se voi state cercando in qualche modo non dico di vendicarvi di determinate cose ma siete sicuramente nella strada in cui vorreste prendere una decisione che potrebbe ferire questa altra persona la carta vi invita a riflettere effettivamente se volete farlo cioè se vi sentireste in pace con voi stesse o con voi stessi oggi è un nuovo giorno allora sono amato sono al sicuro e così è allora qui vi danno un po di sicurezza se non vi sentite amate l'altra persona pensate che quest'uomo questa donna vi stiano prendendo in giro in realtà probabilmente i sentimenti comunque un affetto da parte di questa persona c'è quindi non è completamente non è completamente falso il comportamento di questa persona potrebbe essere anche che vi abbia mentito in buona fede ecco allora vediamo un po il consiglio allora qui le carte vi dicono di portare pazienza quindi qui c'è un'attesa c'è non agire di impulso quindi stare calmi e attendere che le cose si sviluppino quindi questo è un po il consiglio ecco delle carte allora andiamo a vedere i segni zodiacali per la variante numero uno allora abbiamo qui lo scorpione i gemelli il segno del toro il segno della bilancia e poi abbiamo anche il segno della vergine va bene variante 1 io vi ringrazio mi raccomando mettete un like commentatemi raccontatemi la vostra storia ditemi se la situazione corrisponde alla lettura delle carte io vi mando un abbraccio e vi aspetto domani con un nuovo interattivo allora vado a raccogliere tutte le carte e poi passiamo alla variante numero due per coloro che hanno scelto questi bellissimi tarocchini che mettiamo qui allora benvenuti variante numero due ben trovati e naturalmente benvenuti nuovi iscritti io colgo l'occasione per ricordarvi che di mettere un like e di iscrivervi al canale ad attivare soprattutto la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico così mi potete seguire nei video ma anche nei sondaggi nei quiz e quant'altro allora andiamo a prendere le carte per questa variante vediamo che cosa ci raccontano intanto vi ricordo che se mi volete contattare per un consulto privato lo potete fare via whatsapp al 371 636 0228 e vi ricordo che faccio vari tipi di consulti quindi mi potete contattare anche semplicemente per delle informazioni io sono molto contenta perché mi vedo che mi seguite commentati video mi chiedete un sacco di consulti soprattutto che siete soddisfatti perché per me è importantissimo questo quindi mi fa un estremo piacere ringrazio tutti coloro che continuano comunque a essere i miei clienti allora qui abbiamo una sorpresa all'interno di questa situazione probabilmente è successo qualcosa di inaspettato sarà naturalmente diverso per ognuno di voi perché sono interattivi quindi potrebbe essere una sorpresa positiva qualcosa che vi ha riempito il cuore potrebbe essere anche una sorpresa negativa questo naturalmente lo saprete voi sicuramente qualcosa di inaspettato quindi potrebbe essere anche un dono che vi è arrivato proprio un dono materiale potrebbe essere una persona che ha deciso di prendersi cura di voi che ha deciso di donarvi il proprio tempo ma potrebbe essere anche qualcosa che proprio capitato all'improvviso e che questo pacco è come se fosse esploso questa è un po la dinamica della situazione attuale però vediamo cosa sente cosa prova che cosa vi vuole trasmettere questa persona allora qua vedo che c'è una separazione a me dall'idea dalle carte che questo pacco probabilmente non sia stato proprio felice nel senso che abbiamo un allontanamento qui potrebbe esserci una separazione causata da un litigio la presenza di una terza persona potrebbe essere un allontanamento dal punto di vista geografico quindi magari abitate proprio in due situazioni diverse in due paesi lontani c'è il desiderio di curare questo rapporto di prendersi cura della situazione quindi questa persona ha intenzione di sistemare le cose con voi soprattutto se ci sono stati dei malintesi io vedo qua che quello che desidera è proprio una chance una nuova opportunità è al centro della stesa per cui per questa persona è estremamente importante ma soprattutto è altrettanto importante che questa chance questa persona la veda con voi c'è il desiderio di un cambiamento di un viaggio quindi se siete lontani per questioni geografiche probabilmente questa persona vuole raggiungervi vuole appunto venire verso di voi per cambiare la situazione quindi naturalmente se la situazione è in uno stato di precarietà probabilmente arriverà una situazione di stabilità nel caso in cui abbiate una separazione potreste ritornare insieme ok quindi qui ci sono dei mutamenti di cambiamenti che questa persona vuole proprio fare allora andiamo a vedere con l'oracolo del vorrei dirti che per che cosa possono aggiungere allora ti mangerei fatice non sono felice sono arrabbiato sono io quello giusto per te qui abbiamo voglio fare l'amore con te uscita anche questa ti sogno vediamo fondo del mazzo non riesco a lasciarti andare allora questa persona è molto molto attaccata a voi vi desidera vi vuole qua c'è proprio un pensiero che arde profondo all'interno del cuore di questa persona dice ti mangerei quindi una persona che non resiste capisce il valore che avete perché comunque è un uomo che è proprio attratto da voi cioè vi mangerebbe in tutti i sensi dice che in questo momento non è felice quindi se avete un litigio una distanza sappiate che soffre questa persona è arrabbiato perché probabilmente non riesce a gestire la situazione è arrabbiato per quello che è successo potrebbe essere arrabbiato per quello che ancora non è riuscito a fare dice io sono quello giusto per te è una persona che vi sogna che vi vuole anche sessualmente vuole avervi vicino dal punto di vista fisico anche questa persona quindi qui abbiamo un uomo molto innamorato molto molto che vi desidera proprio tanto allora andiamo a prendere delle carte motivazionali per voi ricordo che questi sono dei messaggi che devono servirvi per capire un po dove voi dovete lavorare perché sappiamo sempre che se andiamo a migliorare noi stessi poi le cose ci capitano e arriva ciò di cui abbiamo bisogno quindi qualcosa di bello quindi quando abbiamo guarito delle lezioni all'interno della nostra vita arriva qualcos'altro che finalmente ci porta alla felicità allora sono già perfetto così sono già perfetto così qui e ora sono abbastanza sono tutt'uno con la vita quindi qui qualcuno si sente non adeguato alla situazione le carte vi stanno dicendo che di fatto non è così che siete perfetti che andate bene per qualsiasi situazione per qualsiasi tipo di persona quindi meritate tutto tutto quello che desiderate sono qui al momento giusto il lavoro che faccio su di me è infinito non importa quanto tempo ci voglia perché ho tutto il tempo del mondo quindi se pensate di essere arrivati a un punto in cui non potete più cambiare la vostra vita non potete fare dei miglioramenti sappiate che non è così è sempre il momento opportuno quindi se volete fare un'evoluzione spirituale intellettuale potete farlo con tutta serenità anche se avete 80 anni anche se ne avete 90 ok l'importante è che abbiate la volontà di farlo allora andiamo un po a vedere il consiglio qui per la variante 2 allora maturità qual è il consiglio qua beh sicuramente di utilizzare la vostra esperienza per affrontare i problemi le situazioni all'interno della vostra vita ma direi che qui riferito al rapporto le carte vi stanno proprio avvisando che la situazione è giunta a maturità quindi è il momento giusto per fare delle scelte è il momento giusto per evolvere per cambiare per fare un passo all'interno del rapporto se lo si desidera quindi questo è il suggerimento il consiglio e anche di agire con maturità quindi di fare delle scelte sagge delle scelte delle scelte ponderate andiamo un po' a vedere qua i segni zodiacali qui abbiamo i gemelli il segno del sagittario il segno del leone il capricorno e poi abbiamo il segno dell'acquario va bene variante numero 2 vi ringrazio per aver seguito mi raccomando mettete un like raccontatemi la vostra storia scrivetemi nei commenti io vi aspetto con i prossimi interattivi e ricordatevi di mettere di attivare la campanellina e naturalmente di iscrivervi io vi mando un abbraccio e vi aspetto domani con un nuovo interattivo ciao a tutti e buonanotte